Rigopiano per la prima volta il processo a proda in aula. Stamani in tribunale a Pescara i familiari delle 29 vittime della tragedia del resort. È stata riviata al prossimo 16 ottobre l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara Nicola Colantonio sull'opposizione presentata dalla procura di Pescara per 22 indagati dell'inchiesta principale relativa alla tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto come si ricorderà il 18 gennaio del 2017 da una valanga che provocò 29 morti. In sostanza il nostro interesse è stato appunto questo. Come l'hai detto correttamente abbiamo rappresentato anche stamattina in udienza questa situazione. Nell'interesse proprio comune di una comunità che è stata distrutta ci stiamo chiedendo per quale motivo nessuno abbia attivato quest'ulteriore mezzo di soccorso, peraltro previsto a livello di normazione di protezione civile, non abbia appunto attivato questo collegamento, collegamento appunto delle turbine, collegamento con l'ANAS al fine di avere queste turbine sul territorio. Turbine, lo abbiamo detto anche in udienza, che potevano spostarsi assai velocemente lungo il territorio abruzzese e quindi forse avrebbero potuto risolvere una situazione. Noi come comunità di Farindola, perché io difendo sempre il comune, quindi un interesse pubblico, stiamo parlando di delitti contro l'incolumità pubblica, noi vogliamo fare chiarezza anche su questo punto. Tra i 22 indagati per i quali è stata chiesta l'archiviazione figurano gli ex governatori abruzzesi, Luciano D'Alfonso, Ottaviano del Turco e Gianni Chiodi, oggi non presenti in aula, e gli assessori che si sono succeduti alla protezione civile, Tommaso Ginnoble, Daniela Stati, Mahmoud Zrour, Gianfranco Giuliante e Mario Mazzocca. Udienza rinviata ad ottobre, partiamo da questo punto. Sì, partiamo da questo punto, il 16 ottobre, ma partiamo ad un altro punto. Finalmente è iniziato, questo per noi era fondamentale. Abbiamo iniziato a rispirare questa aula di tribunale, perché eravamo in attesa di due anni e mezzo. Adesso iniziamo, adesso sta ai nostri avvocati a far valere i nostri diritti, e soprattutto alla ricerca della verità e della giustizia. Loro adesso devono lavorare per noi. Vi opponete fortemente all'archiviazione? Sì, certo, è chiaro che noi ci opponiamo per tanti motivi all'archiviazione. Loro hanno motivato, noi abbiamo motivato, loro motiviranno il 16 ottobre e saremo a vedere. 16, ci sarà la prima odianza preliminare? Sì, e noi ci saremo. Vedremo chi verrà rinviato a giudizio e poi valuteremo il da farsi, sempre insieme ai nostri legali. Noi siamo una comunità lasciata sola, noi siamo stati isolati durante la tragedia. L'apparato politico c'entra, certo, non si può dire di no. E noi vogliamo chiarezza su questo. L'udienza di oggi serve a questo, a completare un'indagine. Non si può chiudere tutto con una richiesta di archiviazione. Non sarebbe giusto per le persone che sono morte, per una comunità che è stata ferita come quella del comune che io rappresento.